Allora, ehm... Ah, la skin di Stevie! Eh, la skin... Sì, quella di default. Che brutta! Che brutta... Comunque, ehm... Che cazzo ci manca, praticamente? Minchia, non mi farebbe stemmiare, va. Ci manca escape, survival puzzle e boss battle. Dobbiamo fare escape... Qual era quella l'altra volta abbiamo, tipo, santiato per fare escape? Sì, mi pare. Non era quella dei l'alimenti? Non mi ricordo, sì, no, no, no. Escape non la fare. Allora, survival... Survival dovrebbe essere... Eh, no, puzzle... No, minchia, puzzle non sono in condizione. Facciamo escape. No, eh, che cosa... Che cazzo avevi detto? Survival. Survival, dove minchia? Survival branch. Up. What the fuck? Oh, Cristo. E che cazzo... E come ci arrivo io? What? What? Vut, vut, vut. Un survival, compa. Quindi? Oh, compa. A chi è uno sopra. No, compa un survival. Poggiate il re a chi è. Eh, appo... Cazzo, io ho detto. Compa, sembra oceano. Cazzo. Nooo. Nooo. Cazzo, cazzo. Ho fatto la mucca. Non c'è un cesso mio. Nooo. Ah, sei la peggio mucca. Vieni qua, che prendi il latte alla tua tetta. Oh, le... Oh... Sei la peggio mucca. Sì, oh, pollo. Ma io che minchia faccio? No, porco. L'hai fatto pure storto. Minchia che è down. Io ti sto seguendo. No, compa, vi manco un pezzo di terra. Pollo. Io ne ho 18. Però non posso darti. No, non riesco più a salire. Adesso non posso. Né scendere, né salire. Né scendere, né salire. Coppa, allora, aspetta. Ecco, va. Che fatica. Metti il blocco subito, ma coppa. Spostati sul blocco accanto. Spostati sul blocco accanto. Oh, è ora ti prendi i miei. Oh, sei ha. Coppa, io sono la trappola hardcore. Insert item into the dropper. Item, che devo mettere? Ah, return to hub. Item. Survival guida. Aspetta, guida. Welcome to Survival Branch. It is a prezzi che abbiamo scelto un po' di questa area da arrivare qui. Puoi mettere e rimuovere alcun blocco in oltre l'islanda, but you may not place or remove blocks within the bedrock chamber. Ah, non dobbiamo rimuovere... Stai fermo. Non dobbiamo rimuovere item dalla stanza di bedrock. This is the only branch which places you in complete survival mode, which means hostile mobs will spawn atro, creepers can destroy blocks. You will lose items when you die. Vabbè, ovviamente. Complete a sample checklist in this case, specific blocks or items. There are total of items you must collect from the island. Toss one of each list in them. The brown vault. Allora, un painting, un floor... Ah, dobbiamo aprire di niente collezione, sti blob, sti robbi. Cosa? Uh, Cristo, sto per morire. Allora. I quali da collezionare sono... Un painting, un floor... Perché ce l'ho in inglese? Ah, no, no. Un painting, aspetta. Un painting e un quadro. Dobbiamo... Che palle! Cioè, dobbiamo craftarci le robe. Sarà tipo un inizio di una serie della serie. Tu non ne hai idea. Oh, madonna. Ma che... Si, ma... Si, ma... Come? Ah, c'è l'albero. Per fare la working table. Aspetta, va piccoli. Bravo, frate bus. FRATE BOOS! Non pa', si vede che... Si vede che sono tutto sclarato dallo studio. Ma cosa bella è che c'è solo un albero. Speriamo che ci sia un altro albero. Ma la cosa bella è che... Secondo me ci dobbiamo fare la barca, fra. E andarcene. Ma tu sei cretino. Ma tu sei... Ah, no, perché gli item vanno messi qua dentro. E tu sei cretino! E te stai mi... Allora, cosa serve? Gelta l'ha appena guadagnato la conquista. Attaccati a sto ceppo. Attaccati a sto c***o. Ma che è sta cosa? Perché attaccati a sto ceppo? Ma me lo fai ogni volta che faccio un c***o di video. Allora. Cos'è un painting o un flower pot, compa? Un painting o un quadro, sicuro? Si. Un flower pot? Un fiore? Coppa, inizia una miniserie. Ma tu ti immagini? Ma una cosa... Forse so cos'è il flower pot. Vieni qua. Il flower pot dovrebbe essere il fiore fatto con il... Il colore? Il colore, sì. Aspetta. Perché guarda. Cristo mi è caduto. Guarda dietro, quello è il colore che ha fatto il fiore. Eh, glielo vado a mettere, vediamo se funge. Prova. Eh, fai una cosa invece. Dimmi una cosa invece. Se io... Se dopo, ovviamente, perché non è che la finiamo tutti in una botta. Se la... Se chiudiamo la registrazione... Dopo... In questo punto. Dopo la riprendi in questo punto. Se chiudiamo il mondo, scusa, in questo punto. Dopo riprendi in questo punto. Quando riapriamo il server. Ehm... Ok. Aspetta. Allora. No? Dov'era per mettere gli item? Là. Lo deve buttare di sopra, col co. Forse uno l'abbiamo messo. Se ti dice che non va bene, te lo dice lui, tipo. Sì, dice... Eh, vaffanculo. Che cazzo è Flower Pot? Lo cerco su Google. Minecraft Flower Pot. Minecraft... Insomma. Flower Pot. Per capire che cazzo devo fare. Ma è giusto. Questa, quant'è? Cosa? Un vaso? Un vaso? Ma Gesù? Come si fa il vaso? Ma che cazzo lo so? Madre. Vabbè, ora vediamo. Sta scendo la notte. Ora iniziano a spammare i mostri, compa. Eh, i mostri. Ce ne andiamo... Ah, le torce, compa. Le torce dobbiamo fare. Almeno ci rientraremo lì dentro. Ma se non c'è carbone non c'è nemmeno una fornace. Sì, sì. La... Madre di Dio. Madre di Dio. Eh, dobbiamo fare... La legna l'hai presa? Sì, compa. Eh, allora facciamo intanto il piccone. Così facciamo la fornace. E dopo si fa... Allora, minchia, dobbiamo organizzarci bene. Allora, prima si fa la fornace. Prima si fanno i picconi. Fai i picconi. Fanne... Uno, uno fanne. Non sprechiamo roba. Ma... Alberelli non ti è andati più? Uno solo? Uno solo. Ah no, qua c'è un altro. Minchia, good. Pianta, pianta. Piantalo accanto al mare, così cresce prima. Ebbia. Accanto alla sabbia cresce prima. No, la sabbia non cresce. Ho detto accanto. Eh, l'hai presa, l'hai fatto il piccone. Aspetta, ok, perfetto. Allora. Prendiamo... Facciamo una cosa dappica. Devi ritrovare cobblestone. È bravo, infatti devo scavare qua in basso. Eh, scaviamo tipo occio. Eh, il problema è se becchiamo il mare. No, già ci sono mostri. Già ci sono... AAAAAAAA! Preghilo! Che fai, un ragno di merda! Ah, già un pietac. Tu sei il più... 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 Più largioso di me. Oh, coblast. Vai e ammazzo un po' di cose per fare del cibo. Insomma, questa sera è survival. Ma ti immagini, cazzo! Ce l'ho... E io torno a fare la mucca quando sono in difficoltà. Sì, qua sotto c'è la peggio caverna. La bad caverna. Era moro. Non morire, Giampitech. Non la faccio a fare la serie da solo, Giampitech. Perché tu non si farò un cazzo senza di me? Hai visto? Sempre ad accusarmi, Giampitech. Non è che mi dici quanto mi ama. Eh, dai. La working page bunch. Eh, dai. Dai sto cazzo. Lavora. Giampitech, sei volgare, madonna. Fai la legna fracca. Perché ammazzi i porci? Fai la legna fracca. Per mangiare. Che significa la legna fracca? No, dimmi che non hai craftato tutto il legno. Ovvio che l'ho craftato tutto il legno. Maronna, che down! Dammi sto legno. Dammi il legno! Ho un'idea, serve un teschio. No. Ah. Sì. Sì, non ce la farei mai. Ah, mi faccio una spada, aspetta. Dammi... Mi dà un po' di legno, Cristo, che non posso fare nemmeno una spada di pietra. Oh. Mi serve un teschio. Andiamo in una man scoperta. Ne faccio due spade di legno, di pietra. Però ho le spade. Ah, spade in pietra, sì, quella. Il ghiazzo rebottano. Ok. Solo ragni si spawnano in sto schifo. Oh, allora. Io non dovrei correre, visto che poi moriamo. Allora, tecca la spada. C'è un ragno, c'è un maiale, che non si capisce perché cazzo... Hai isolato, poverino. Hai nel conflice di concentramento. Sei morto. Ciao, maiale! Ma non si possono piantare i maiali su sto cazzo di gioco? No, ma piantare i maiali, comunque. Perché così, almeno? Oh, con le canne a zucchero che possiamo fare? Aspetta, vediamo... Mi sa che con le canne a zucchero si deve fare un item. Ovvio. Tu devi vedere cosa bisogna fare, così vediamo... Allora... Oh, oh! Un pe... Allora, un... Minchia. Allora. Un quadro. Un... Un vaso. Una cosa di TNT. Un powered rail! Ma ti immagini? Ma... Ma sta scherzando? Ma qua verrà che ci stiamo dieci anni a fare tutta sta roba. Un pesce cotto? Un pesce cotto si può fare. Ovvio. Ma la canna di pesca manca, non si può fare un ca... Vabbè, la canna di pesca è una stronzata, devi prendere il ragno. Una mappa vuota è una glowstone block. Cioè, dobbiamo fare il portale. Ma ti immagini? Il portale? Vabbè. Ma sei pazzo? Ma questa serie durerà gli anni! Bravo! Ah, è il creeper, il creeper, dove ci serve? Per fare... Per prendere la... La TNT. Per la... Tu prenditi il mostro, lo zombie. Io cerco di non morire. Ah, attento, attento, attento! Ecco qua, io già sto crepando. Tu hai il tuo creeper... Vai, ecco qua. La roba è presa. Vai, l'ha presa. Ecco qua, sì, ci sarà il tempo. Che cosa ci posso fare? Sti cazzi. Ah, c'è uno dietro. Io ammazzo la mucca. Possono servire sempre le robe. Mi devi dire una cosa, Jumpy Tech. Perché non mi dè della cazzo di legna? Perché non è più? Madonna, perché l'hai presa tutta? Ora quanto ci sta qua? Che cazzo significa? Oh, uno scheleton, uno scheleton. Minchia. Oh, bello. Il mondo c'è là. Ma il mazzolo. Ma il mazzolo sto cazzolo. Ah! Figlio di puttana, figlio androcchia. Ma, cazzo c'è. Attento. Iper, suca. Ah, no, il che... Madre. Questo mi sta ammazzando. Attento, attento, attento. Un cuore muoio. Un cuore muoio. Sono morto. No, sono vivo. Uuuuh. C'è un cuore. C'è un cuore. Aspetta, aspetta. Vediamo se riesco a cucinare... Madre, sono caduto. Ah, stai mangiando una cosa cruda. Madonna, come fai a levare la legna? A usarla tutta, Cristo. Aspetta, si può fare... Sì, sono tattico, compa. Aspetta un attimo. Si può fare anche con i bastoncini, compa. Si può fare con tutto. Ti stai zitto, compa. Guarda che ti crede il suo jumpy tech. Maggio. Che sta combinando? Ah, hai preso la... Ah, guarda che io sono il peggio survival. L'ho fatto una serie oceana di 80 e 60 e ancora deve continuare. Che cazzo fa? Dobbiamo fare dei letti, compa. Come si fa? Mi rompo il cazzo a fare... Che finisce, cazzo, qua? Madonna. Un altro zombie. Oh, un zombie piccolo! Ma porca traia, quanto corre? Quanto cazzo corre? Oh, sono tessone, cazzo. Figlia rosa. Sì, guarda io che ho fatto, compa. Qui possiamo albergarci la famiglia. Prendi tutta la legna. Oppure ci facciamo la casa lì sopra? Ma fatti sto cazzo! La legna, vedi, che è fondamentale. Eh, appunto, allora prendi la legna, che minchia... Però non bruciarla questa. Questa facciamo il coso cotto lì. Il carbone. La carbonella, anzi. Vai, compa, risuota. Che ne cazzo, la finisce. Tu hai visto mine tech? No, perché sei una merda. Voi l'avete visto mine tech? No, perché siete froci. Comunque, aspetta, vado a prendere la minchia. C'è il creeper, vabbè. Quanta TNT serve? La TNT forse per assurdo... Ma la TNT per farla serve anche la sabbia... Eh, inutile. C'è solo un cazzo a fare la TNT. No, la Redstone non serve. Secondo me serve. Non mi ricordo. Vedi su Wikicraft. Madonna, non serve. E non mi ricordo come cazzo si fa. Mannaggia la morte. Vai. Ah, porco. Oh, non li prendo mai tutti. Non li prendo mai tutti. Sono morto. Jumpy. Jumpy, aiuto. Porca. Jumpy. Aspetta, cosa vuoi? Dove sei? Sto scappando. Ma dove sei? Nell'acqua. Aiuta. Dove è l'acqua? Oh, ma c'è il suo tessuto piccolo che mi ammazza. Oh, finchimo. Mi mangiò la carne, corcio. Dove sei? Aspetta che vengo. Frate, mostrata. Oh, ma quanto corre poi. Oh, minchia, il figlio di Phelps. Esci dall'acqua, esci dall'acqua. Ah, ma c'è quello piccolo. Hanno fatto sesso. Quelli piccoli sono i più bastardi. Eh, appunto. Io vado avanti di carne marcia, suca. Sto prendendo vita. Cioè, la carne marcia sarà the way, proprio. Chi è che mi ciuccia? Porca puttana mia madre. Vale, lo faccio in live. Pronto? Perfetto. La solita! Ciao, sto registrando. Oh, perfetto. Ho chiamata la madre di X-Murray. Madonna, ogni volta. Come la vuoi la pizza? Porca troia. Come la vuoi la pizza? Mangia un solo tipo. Sto registrando con te. Com'è che ti chiamo la tua madre? Mangia un solo tipo di pizza nella mia vita di merda. Oh, uno scheletro, uno scheletro. Non ci serve, ci serve. Di merda. Aspetta, X-Murray. Io qua sto facendo il peggio legno. Guarda, sto facendo la carbonella. X-Murray. Oh, porco, due. Jumpi, jumpi. M'ammazza, m'ammazza, m'ammazza. C'è l'Henderman, non si chiama l'Henderman. Mannaggia, mannaggia. Ma qual è Enderman? Via lontani da quel robino che è l'Henderman. Me lo sta mettendo nel Coolerman. Perché non ci creiamo una casa di fango e merda? Madonna. Non dire fango e merda. Non dire fango e merda. Facciamoli bruciare, non li attaccare, scusami. Che ora tanto sta venendo là del giorno. Io non so quanto sto registrando, però vabbè. Non me ne hai fatto una... Ah, vieni qua, JumpiTech, perché fai il bonello come sempre? Allora. Ma tu puoi vedere cosa ti crea adesso JumpiTech? JumpiTech, è la prima volta che faccio una cazzo di survival? Ed è il survival nell'avvento... Compa, madonna. Allora, compa, dobbiamo chiederci una zona dell'isola safe. Ovvero questa. Ma non... Eh sì, esatto, però piccola, non farei una cosa enorme. Non ho più mob, quindi è un bordello, se no. Ok, allora. Pic... No, troppo grossa, compa. Compa, tutto questo da ci sono l'albero e qui ci camperiamo le cose. Così qua non possiamo più spawnare. Porco due. Bravo, mi sei piaciuto, JumpiTech. E poi là sotto spawnano. Quando noi serve roba... Ci amo. Va bene. Mi devi dire cosa possiamo creare così vediamo se già possiamo fare un oggetto. Allora, possiamo creare... Un Gesù! No, no, quello no. Allora. Allora, Gesù, vieni qua. Allora, la TNT è la prima cosa, io direi. È il... Come si fa la TNT? Aspetta. Madoshka, la sabbia ci serve. La sabbia è la... Quattro pezzi di... Quattro pezzi di polvere da sparo, sicuramente. Aspetta, io devo andare a vedere come si fa. Craft wiki, TNT. Se non sbaglio, eh. Non voglio dire minchiato. Io non me lo ricordo. TNT, eccola qui. Allora, come si crafta? Ah, uno, due, tre, quattro, cinque di Gunpowder. Minchia, cinque! Io due. Eh, fai una cosa, fai una porta bestia. Ma che cazzo fai la porta bestia che è qua tutto aperto? Sei malato. Eh... Beh, è aperto, però non passano i mob. Perché c'è la luce. Eh, sempre server 5 Gunpowder. Comunque io c'ho sette pezzi di carbonella. X-T. Vai compa, sei il peggio hacker proprio. Allora. Mi serve uno stecco se potresti. Potessi. Uno stecco? Uno stecco. Tieni qua. Bestia stecco, X-T. Oh, brava. Attaccati a sto ceppo pure tu compa, visto? Ti sette tutto al ceppo. Eh, ok. Quanto ne hai di Gunpowder? Di nuovo. Cazzo, ne ho due. Oh, cazzo. Ora faccio una pala, così ci recintiamo, Jumpy Tech. Recintiami sta minchia. Beh. Voi. Allora, dopo, io direi, ci recintiamo. Adesso faccio la canna da pesca, compa, e facciamo il pesce cotto. Eh, perché già ce l'hai, già ce l'hai. Certo, compa. Ah, bestia. Dammi a bomba. Aspetta. Devo ricordare come si fa la canna da pesca. Tu mi doversi te lo sai cosa? Del cazzo di cibo. Quali fa la canna da pesca? Se mi dai items, te la faccio io. No, ma sto io la devo fare. Eh, una diagonale di legno e poi dal filo di bava di ragno. Geralt l'ha lasciato in gioco. Sì, vabbè, l'ho sbagliato, lascia stare. Che down. Capito? Allora, no, non ho capito ancora. Allora, una diagonale di legno, ok, l'ho fatto. E poi il basso di... Che significa il basso? Oh, madonna. Dammi qua che lo faccio io. Tu quante cordicelle hai? Un cazzo. Due. Eh, dammi che lo faccio. Ancora la minchia mi rompe. Vieni qua, minchia rotta. Mi sembra che ne bastino due, ora non voglio dire una minchiata. Uno, due, tre. Uno e due. Oh, fatta. Ah, bomba. Vabbè, va a pesca, Samper. Ora me la dai, devo andare a pescare il tiabo, ma è che... Oh, metto a cuocere questa porco qui. Ah, tu stai già cocendo? Questo me lo mangio io? E tu te lo dico? E qui mi metto, mi metto sopraelevato per, per prendere il pesce. Chi forse? Tutte che pescatore? Oh, prendi a... Guarda, guarda che già ci sono tutti gli zampilli dell'acqua. E per... Pronto da boccare nell'oceano. Attenzione, attenzione. Defici... Oh, sto recintando, serve. Eh, recinta sto cazzo, vieni qua. T'ho detto prima, compa. Ma la recinti e tutta. Allora. No, tranquillo, devi stare proprio tranquillo con questa... Devi stare proprio tranquillo. Possiamo fare anche il quadro. Eh, come? Non mi ricordo. Io sto pescando intanto. Allora. La faccio proprio rudimentare, tanto sarà una parte della serie che mi chiamano potte. Una parte della serie che è una serie nella serie e poi dentro questa serie si crea un'altra serie. Madonna. Sarà un buon bello. Il cazzo. Serie, prendi... Oh, madonna, mi è spaccato le orecchie. Boom, prendo il pesce. Preso. Preso lo cucina prima di tempo fatto. No, prendine tipo un po' però, così che è anche per cibo. Per ora, ghi, la fare l'item. Vai. Vai fare l'item. Aspetta, che lo cuocio, lo cucinello. Sto recintando a bestia proprio. A bomba. A bomba. Vabbè, recinto a solidarmi, vero? Aspetta che piantiamo un alberello che possa tira. Sì, ma non usare... Ah, ok. Non usare però il... Le ossa. Ah, andiamo a vedere se hanno droppato robe. Mi ho preso anche tempo, cazzo. Può essere che sono sparite ora le robe che hanno droppato. Non hanno droppato una sciuppa di minchia. Serviva anche... Mi serve, sì. Mi sembra che serve anche tipo... La carta. Giusto? Sì, vabbè. La carta serve. Vado a mettere l'items dentro la cosa. Ok. Perché guarda... Siccome in questo coso ci dovremmo entrare spesso. Adesso tech crea la way. Perché guarda, il coso... Come si chiama? Sia per il quadro che per la mappa non serve la carta. Ah? Sì. Preso Tong. Comunque... Che sto facendo? Meno male che fai survival, tu cazzo. Dovresti sapere tutte le... Le vei pericraftaggi. Non sei una... Eh, ascolta, cari Xmurri. Vedi di non rompere i coglioni, perché... Se no, noi non andiamo d'accordo. Vabbè. Cacchiona. Allora. Io, per adesso, mi sto accingendo a fare questo. Ma... Che minchia fai? Ti rendi utile? Io la stavo per entrare là dentro. Lui fa le minchiate. La scaletta del cazzo. Lui fa. Non è che fa... Le cose utili al mondo. Vuoi morire? Lui fa le scalette di merda. Ma è tranquillo. Tranzollo come roba. Vabbè, io recinto. Ehm... Ah, ascoltami se questo mio ragionamento va bene. Recinto soli lati, giusto? Il tetto non dovrebbe servire. No, no, tranquillo. Madonna che spastico a mettere sti cazzo di blocchi. Quanto legno c'è? Devo fare delle scale. Ehm... 8. Eh, aspetta che lo vado a prendere, allora. Ehm... Quanto legno questo non manca più dopo... Ma io direi che... Adesso questo ti trovo. Sì, ma devi levare questo legno di qua. Eh? Questo albero. Ah, sì, aspetta. Leva solamente i pezzi di legno. Sì, poi queste cose troppano un sacco di... Di alberelli. Di alberelli. Arboroscelli. Però ero roscello. No? Eh, ma recintare tutto è un bordello, mi dicono. Ma tanto terra ce n'è a bomba. Ma perché... Ma perché ne sto facendo di tre e non ve lo faccio di due, cazzo? Cioè, per quale motivo ho dell'universo? Perché a te piace la cosa a te. Bene. Io lo faccio di due, vaffanculo. Ma tu lo fai a due? Bravo. Lo faccio pure stretto. Qua lo devo fare per forza... Mica, lo fai stretto. Mamma mia. C'è un pitec, appena non la smetti ti spacco la faccia. Il mosetto, quel bello muso che ti ritrovi. A bestia te la spacco proprio. Ah, bomba... Bombazzo. Allora, andiamo a prendere tutte le parti da tre che ho messo. Cazzo. Ho visto che hanno droppato un altro alboroscello e lo piantiamo qui. Mmm, madonna, se vi peggio Farmville! Farmers! Furmisse! Ertis! Eragorn. Ergorn. 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 Torino, scusi di quercia. No, le scalette. Rive facciamo le scalette. Ma, madonna, ma com'è che io lo so e tu no? No, che cazzo dici? Con i blocchi, li devi mettere... Dammi. Le scalette quelle che ti ci parliampicare, da l'anno umano. Ah, sì, con gli stick ad h. Eh... Procio di merda. Oh, perfetto. Ora, tutti gather. Il jumpy tech non si sbaglia mai. Dunque, XD. Allora, questo lo sto facendo... Però che palle recintare tutto, mi sto scassando proprio tutto. A recintare. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Spero se l'ho l'ho. Siccome là dentro ci dobbiamo entrare mui spesso. Guarda che teccarato tech. Guarda che cazzo di fortino che sta facendo il tuo murri. Perché non lo ami al murri che fa questa cosa, cazzo. Oh, l'alberello minchia dura, tale volta è diventato. Oh, momento potente. Aspetta. Vai, che cazzo fai? Chi forti. Allora, quindi, adesso dovrebbe apparire nel libro. E invece no. Sì, sei convinto. Eh, che cazzo ne so. Minecraft ormai è diventato una droga, qua. Una droga leggera. Piccolina ma leggera. Un down, cazzo. Quanti compagni di viaggio non mi dovevo prendere il down, mi dovevo... No, viene qua, tagli. Guarda che jump attacchi di quella banca. Devo fare visit. Dai, ok, mi prendo il porco e mi prendo anche questo. Un pezzo di porco, no, però non me lo mangio. Pezzo di porco. Torce se, strozzo. Eh, dobbiamo fare tante torce adesso, a parte gli scherzi. Capito? Allora. Allora. Madonna. Capito, jump tech? Devo un po' mangiare, perché sto io morendo. Iii, non morire, jump tech, che poi non possiamo fare più serie. Mi sembrava sesso. No, sesso, jump tech, berecchini. Di quanto lo faccio alto? Ma questo già andava bene, porca troia. Vabbè. Troia, porca. Troia, porca. Lo farò. Faccio una cosa più tattica, levo la salta. Bravo, frate. Cazzo, si è rotta. Vabbè. Faccio così. Jumpy, sono il peggio hacker, tu non lo vuoi sapere. Ma guarda che way best che ho creato. Scoppio un creeper là, siamo fottuti. Ma insomma. Bravo. Eh, ma perché? Guarda qua che sta facendo il tuo murri. Vieni qua. Mamma mia, come fa? Mamma mia, che sei tattico. Madonna, jump tech, mi sento il peggio fantino. Ma le torce che avevo piazzato ti pelaste fuori? No, li ho presi. Scusate, lo stai prendendo adesso. Jumpy, mi dai, minchia, mi dai fa poca fiducia però. Ne devi fare altre comunque. Assai proprio. Ma quando ci fosse il carbone. Ah, tieni. Ti sembra giusto che qualche volta il fiumetto di merda. Prendilo. Quanto ne hai? Quanto ne hai? Cinque. Eh, che cazzo devo fare, scusa. Che cazzo devo fare? A bestie. Lo faccio a bestie? Che devo fare? A bestie. Ah, qua. Che devi fare compa, non lo so. Pensa di tipo a spararti. Ho fatto 20 torce. Aspettate, devo prendere altro legno qui e vado a fare... Minchia, sta calando la notte, devi dispicciare a prendere le torce, jumpy-te. Ah, sta calando la notte, sappi che stiamo registrando come minimo da 20 minuti. Eh, a bestie. E anche di più. A bestie. La boba. Ehm, ok. Perché mi hai fatto cadere del legno, non lo so. Va bene, va bene. Ma damelo sotto, non lo prendere. Così capisco quanto devo craftare o no. Aspettate. No, io stavo finendo qua. Ehm... Uno, due, tre, quattro... Da qua non possono salire, a posto. Ho finito di direcintare, adesso metto le torce. Le hai fatte le torce nel frattempo? Sì, aspettate, tieni qua. Dammele. Perfetto, perché non me le butto tutte insieme lui? E le devo andare a raccogliere come un cazzo di pollicino. Sì, perché tu sei un cagnonino, vieni qua. Allora, minchia, non ho fatto la porta. Ma perché hai messo la working ba- Che madonna. Portalo dentro. Eh, grazie. Anche la fornace. Thanks to the cock, proprio. No? Che significa che cazzo? Oh, madonna, mi sembrava un cazzo di zombie su camminchia, ne sai? Idiota. Ok, eh, mettiamolo. Facciamo porta, aspetta, jump tech. Facciamo porta! Facciamo questo! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Porta fatta, mettiamo porta qui. Non passa a più nessuno, mettiamo torce. E painting si deve avere a craft no? Sì. Ok, x morri. Di painting. Ah, si può fare il painting, facile facile, fra l'attimo. Non lo so, non mi ricordo. Servo un pezzo di lana. Dimmi che c'è una pecora di merda. Non c'è. Minchia, ma come cazzo facciamo adesso a fare spandare le pecore, allora? Non lo so. Molto interessante. Dimmi una roba, quanta densità più o meno di torce devo fare? Finchè non è inoscura, tipo, me ne metti una, vedi, dopo lì dove inizia a fare buio, ne metti un'altra. Vabbè. Non c'è rimasto più un cazzo su stisola, tranne che zombie. Bene, sarà un po' un problema. Grazie a tutti.